La raccolta del giocattolo Giulio Superti Furga di Canneto sull'Oglio, pur raccogliendo pezzi di notevole interesse, è caratterizzata soprattutto dalla presenza di giocattoli poveri, costruiti con materiali semplici e rivolti ad un mercato popolare, non più d'élite come nelle maggiori produzioni francesi e tedesche, ma proprio per questo riscuote un notevole successo di pubblico e di critica. I giocattoli che vi sono conservati sono quelli più vicini a noi nella loro semplicità e che sono quindi in grado di farci tornare, seppur per poche ore, un poco bambini. Ed è forse questo il segreto del successo dell'industria cannetese, l'aver saputo e voluto coronare il sogno di ciascun bambino.